Allora noi chiediamo tre sì per questo referendum, due sì per l'acqua e un sì contro i nucleari civili. Io dico a tutti per l'acqua, ma come abbiamo fatto in questo Paese ad arrivare a una bestemmia come questa, privatizzare l'acqua. L'acqua è la madre, è la madre di tutta la vita. Avete mai pensato di privatizzare la vostra madre? Come abbiamo fatto ad arrivare a un disastro del genere in questo Paese? Ed ecco perché l'acqua noi diciamo è un diritto fondamentale umano che ogni uomo, ogni donna senza aria, senza acqua non può vivere. Quindi è un diritto. Secondo noi diciamo no al nucleare per tante ragioni. Il più evidente chiaramente per noi è quello del pericolo pubblico come è stato Fukushima, ma sono tante le ragioni, soprattutto le scorie. Noi diciamo no perché noi crediamo che le energie rinnovabili possano risolvere e sono sicure. Il problema, posso risolvere il problema energetico che abbiamo, quindi andiamo sulle rinnovabili. Diciamo un sì al sole e un sì all'acqua. Il nostro sorella acqua è fratello solo.